Ciao a tutti e ben tornati su un altro canale! Oggi faremo una sfida di tic tac Chi ne fa prima 3 vinte Ok, chi ne fa prima 3 vince Aspettate Le mani qua Vai Allora, le regole sono Che consideriamo giusti Sono quelli fatti con le gambe tese E fermati all'arrivo Pronta? Braccia tese No Non vale Le mani sulla riga Mani sulla riga nera Un punto Melissa Peccato No, Franci Lavi le mani sulla riga Sara Sara Peso sulle spalle Se fate a dare il peso della gamba Non è nulla No, non è nulla Le gambe piegate Il ginocchio non è rappeso Dele concentrata Uno a delle Dambe Bah, Franci Le gambe piegate come un rospetto Lavi Eh, vedi L'hai fatto bene Ma devi mettere le mani Proprio sulla riga Sara Uno, Sara Peccato Aveva un po' le gambe piegate No, Adele No, non te lo considero Dai, stendi Lavi Siamo cadute Sara Beh Non vale Due punti, Melli Adele Adele Tesa la gamba sotto Due Adele Dai, Franci Spingi Francesca Verso Verso Scegli Forza Dai, forza Dai, subito però Come se le scegli Questo nome Sì, in fatto che Siamo Due Sara Due Sara Due Melissa Due Adele Ok Tre Tre Melissa Tre Melissa Siete pari E vediamo Poi andiamo avanti Se no ha vinto Melissa Ok Siete pari Quindi, finiti il giro Franci e Lavi Poi facciamo lo spareggio Ok Vai Lavi Vai Lavi Allora adesso Lavinia Sara E Franci Vengono qui Un attimo Sedute vicino a me Qui Sedute No, mi dovete dire Sedute Secondo voi Chi vince Lavinia Vincerà Melissa O Adele Secondo te Questa sfida Melissa 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 Ah, tutte puntate Su Melissa Vediamo E se vince Adele Pronte voi due Sì, però il primo giro Non vale Perché Sì, vale Ok Vai Meli Questo è giusto Questo è giusto Giusto Tutte due Le ginocchia Tede Se no Per te 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 Ah Ok Ok Le ginocchia Sì, non è più buono No No Se Adele fa bene Vinci Se Adele sbaglia Mi sa che sbaglia Così ho occhio Si ricomincia Sempre pari Questo sì Ancora pari Non vuole vincere Nessuno Non vuole perdere Non vuole perdere Nessuno Hai ragione Sara Vai Adele Ancora? Sì Sì Quindi siamo Mossi Allora Se Adele Qua perfetto Vinci Se sbaglia No Ok Vinci Adele Dai Nessuno Ci ha beccato Miseriaccia Le vostre compagne Hanno sbagliato Stavolta Campionessa Di Tic Tac Ok Lasciateci Un bel pollice In su A 300 L'an Che faremo Un prossimo Video Ciao Ciao